grande fratello 15 una nota fashion blogger fra i concorrenti si tratta di zoe cristofoli ex di andrea cerioli il grande fratello si avvicina e sono sempre più insistenti le voci su chi entrerà nella casa più spiata d'italia in particolare gabriele parpiglia uno degli autori del gf ospite del programma ultime dall'isola condotto su mediaset extra da emanuela gentilin avrebbe parlato di una fashion blogger molto ambita dai marchi di moda che avrebbe fatto perdere la testa gli autori non è stato fatto ancora alcun nome il reality partirà il prossimo 23 aprile condotto da barbara d'urso ma secondo parpiglia i volti all'interno della casa non saranno tutti sconosciuti ci saranno tante web influencer tra loro la pagina instagram le perle avrebbe dato come indiscrezione il nome di zoe cristofoli sarà lei la fashion blogger citata da parpiglia la cristofoli all'attivo una storia con francesco bardi portiere del frosinone e una con l'ex gf in andrea cerioli prima che diventasse un tronista di uomini e donne non ci sono né tuttavia ancora certezze non ci resta che aspettare qualche giorno prima di conoscere ufficialmente i nomi dei partecipanti al reality più longevo della televisione italiana giunto alla quindicesima edizione